Si fa presto a dire oro alla patria, ma quel giorno l'Italia, volente o nolente, dovette consegnare le proprie fedi, d'oro, d'argento e monili e altre cose preziose, perché c'era da reagire alle, come le chiamavano, le inique sanzioni. La verità è che l'Italia stava facendo una guerra più iniqua delle altre, una guerra contro un'altra nazione, membra della società delle nazioni, quell'impero d'Etiopia che aggredimmo con tutte le armi che potevano essere usate, anche quelle che non dovevano essere usate, ma questo l'avremmo scoperto solo dopo. La lezione di quella vicenda che mobilitò tutti, ma proprio tutti nella società italiana, in maniera persino incresciosa di pensarci ora, ci dice che quando si viene chiamati al piccolo sacrificio che tocca però le corde del cuore, bisogna stare molto attenti che dietro non ci sia una grande ingiustizia, una grande violenza, un'inequita vera contro gli altri, quella guerra resta una macchia sulla faccia dell'Italia e sulla storia del nostro e la storia del nostro corso. La storia del nostro corso è stata un'inequita vera controllo, che si è un'inequita vera